Vorrei ringraziare anche Mimma Belli insieme con la professoressa Servidori che ci ha stimolato sempre molto come Comitato Unico di Garanzia a lavorare su questi temi e a collaborare con l'OIV. Il Cug lavora per gruppi di lavoro, però in particolare questa indagine è stata svolta coordinata dal gruppo sul benessere organizzativo e dal gruppo sul mobbing, però l'analisi dei risultati, l'analisi dei dati e la valutazione dei risultati è stata fatta da tutto quanto il Cug. Naturalmente il Cug lavora in un'ottica di prevenzione, è un'analisi diversa da quella che è stata fatta dall'OIV in quanto mira a individuare le possibili criticità per proporre delle azioni volte al loro superamento. La normativa segna il Cug degli obiettivi che sono in particolare promuovere e sostenere politiche volte a favorire le pari opportunità, il benessere di chi lavora e il contrasto a ogni forma di discriminazione. Per far questo siamo partiti dalle due domande, la domanda A09 che riguarda la percezione del malessere e la domanda A04 la percezione del mobbing. Abbiamo pensato di andare a indagare quali possono essere i possibili fattori che sono alla base di questa percezione, quindi sia del malessere che del mobbing. Del mobbing vi parlerà in modo più esteso Patrizia e abbiamo cercato di mettere a punto un modello interpretativo, a noi la cosa che ci piace di più è l'originalità che riteniamo che ci sia in questo modello. Abbiamo innanzitutto, vi aveva illustrato prima Maglio come ci fosse da 1 a 6 la possibilità di dare una codificazione delle risposte, noi abbiamo pensato di aggregarle, da 1 a 3 abbiamo considerato assenza o presenza in misura minima di malessere o di mobbing e da 4 a 6 una presenza. Poi al fine di evitare dei falsi positivi, di disperdere troppo l'indagine, abbiamo molto lavorato su quali potevano essere gli items o le variabili significative da verificare la relazione con il malessere e con il mobbing e abbiamo selezionato 21 item per quanto riguarda l'area del malessere e 30 item per quanto riguarda quelli del mobbing. In realtà occorre dire che entrambe le domande hanno una formulazione incompleta. Per quanto riguarda la domanda quella sul percepisco o malessere, come leggere in sofferenza, sensazioni di nullità etc., manca l'indicazione che questi sintomi sono ricorrenti e persistenti nello svolgimento del lavoro quotidiano, a questo noi dobbiamo aggiungere che ciascuno di noi entra, timbra il cartellino con un proprio bagaglio, con dei propri valori che influenzano moltissimo la percezione dell'ambiente del lavoro e viceversa domanda, perché è un'influenza bidirezionale ovviamente. Hanno risposto a questa domanda alla A09 625 colleghi, di questi hanno dichiarato di percepire malessere il 30,4%, successivamente rispetto agli item che noi avevamo selezionato abbiamo effettuato degli incroci, da cui dobbiamo dire a conforto della giustezza della selezione, sono risultati tutti significativi da un punto di vista statistico. Adesso noi siccome abbiamo pochissimo tempo, faremo soltanto un esempio di due tipi di grafici che voi trovate nel rapporto e che sono stati messi su Internet. Ah, scusate, un'altra cosa, un passo indietro. Abbiamo notato che appunto è stato confermato che per quanto riguarda la percezione del malessere, tutti quelli che non concordano con l'ITEM aumenta la percentuale di coloro che percepiscono malessere, lo vedrete nei grafici riepilogativi. Tutti coloro che concordano con l'ITEM si nota che la percentuale di chi percepisce malessere diminuisce. Chiaramente per le tre domande che hanno polarità semantica negativa che sono la mia età e la mia identità di genere sono un ostacolo alla valorizzazione per quanto se potessi cambiare ente è esattamente il contrario. Abbiamo scelto questo grafico che è quello più rappresentativo. Come vedete la domanda, l'ITEM era sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi? A questa domanda, dei rispondenti alla domanda A9 hanno risposto a questa domanda 600 colleghi. Chi ritiene, è d'accordo con l'ITEM, quindi si sente abbastanza del tutto stimato dai colleghi, l'89%, come vedete è massa la percentuale di chi percepisce malessere, mentre invece in quell'11% che è poco o per nulla d'accordo con l'affermazione, la percentuale di chi percepisce malessere arriva al 64,6%, abbiamo un numero ridotto, 65 soltanto colleghi che dichiarano di percepire malessere, ma all'interno di quei 65 e ben 40 percepiscono malessere. Nel grafico invece successivo è quello con polarità semantica negativa, vedete che è completamente diverso, chi è d'accordo con l'affermazione dell'ITEM, quindi ritiene che l'identità di genere costituisce un ostacolo, percepisce malessere in misura molto maggiore rispetto a chi invece non concorda con l'ITEM. Qui è un grafico riepilogativo per tutti gli ITEM che noi abbiamo selezionato, di chi in rosso percepisce malessere e non concorda con l'ITEM rispetto a chi invece, vedete ci sono delle differenze enormi, con chi invece concorda con l'ITEM e percepisce malessere. In estrema sintesi, proprio perché abbiamo poco tempo e dobbiamo velocizzare, abbiamo visto che ci sono 3 sfere in cui particolarmente ci sono delle criticità, una è quella del contesto del lavoro, l'80,7% dei rispondenti alla domanda a 9 ritiene che lo sviluppo professionale non sia chiaro, questo per quanto riguarda tutti rispondenti alla domanda a 9, però di questi, di chi ritiene che lo sviluppo professionale non sia chiaro, ben il 37,9 dichiara di avvertire malessere, mentre tale quota scende al 21,4% tra chi ritiene che sia chiaro. Sempre un'ampia maggioranza, il 76% dei rispondenti alla domanda sul malessere dichiara che non vi sono opportunità di sviluppo e attitudini e che non vi siano le opportunità di sviluppare le proprie attitudini e di questi percepisce il malessere il 39,7%. Una piccola maggioranza non è soddisfatto del percorso professionale e di questi percepisce il malessere il 46%. Un'altra criticità è stata riscontrata nella sfera dell'organizzazione, dove il 74% dei rispondenti alla domanda a 9 ritiene che l'ente non investa nelle persone attraverso la formazione e di questi percepisce il malessere il 40%, vedete c'è addirittura la metà, la quota di chi percepisce il malessere tra chi invece ritiene che l'ente investa nella formazione scende proprio al 20%. C'è sempre un'ampia maggioranza del 62% che ritiene che non vi sia adeguata informazione, questo torna anche con le precedenti relazioni e di questi percepisce il malessere il 42,8%, a dimostrazione di come queste cose pesino sulla propria percezione del malessere. Infine il senso di appartenenza, il 59% dei rispondenti alla domanda a 9 non ha chiaro il proprio contributo agli obiettivi dell'ente, questo è in linea anche con le altre risposte che sono state illustrate, ma vedete come tra questi percepisce malessere il 42,7%, mentre tale scuota scende al 25,6% tra chi ce li ha ben chiari. Questo noi abbiamo cercato di fare la prova del 9, è un grafico molto, vi consiglio di andarlo a vedere comunque sul rapporto, abbiamo cercato di verificare se le nostre ipotesi erano fondate con la prova del 9, qui abbiamo costruito un indice tra le percentuali che percepivano malessere e concordavano con l'item e le percentuali dei rispondenti che percepivano malessere e non concordavano con l'item. Come vedete il mio lavoro mi dà un senso di relazione e quello più alto, il valore più alto, se potessi cambiare i ente sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi, quindi a conferma della nostra ipotesi. Alla fine abbiamo tratto queste considerazioni veramente in estrema sintesi, noi abbiamo un'alta percentuale di rispondenti, 65% che si sente stimata e trattata con rispetto dai colleghi, un'altissima percentuale, l'89% che è soddisfatta della propria sfera reelezionale, ma di questi rispondenti alla domanda a 9 sembrano percepire molto distante l'organizzazione, invece all'interno di chi percepisce malessere per loro è soprattutto la sfera relazionale che è carente, loro avvertono in particolar modo carenza di soddisfazione nella sfera delle relazioni, scarsa stima da parte dei colleghi, identità di genere ed età come ostacola alla realizzazione, denunciano una mancanza di realizzazione sul lavoro e valori e comportamenti dell'ente non coerenti con i propri. Un'ulteriore prova di questo è la priorità che sono stati dati dai rispondenti, da chi percepiscono malessere e da chi invece non percepiscono malessere, come vedete la chiarezza degli obiettivi e compiti è stata dichiarata dal 57,1% di chi percepisce malessere, la valorizzazione del personale è dal 56,6% di chi percepisce malessere. Abbiamo messo a punto delle proposte per il piano di azioni positive, noi proponiamo di investire di più nella formazione, il Cug propone di investire di più nella formazione, informazione e sensibilizzazione del personale, individuare per Ispra la consigliera di fiducia operante anche in qualità di esportello di ascolto, organizzare seminari in temi di pari opportunità e benessere organizzativo. Una cosa che sembra molto semplice, forse banale, ma che si potrebbe fare subito è quello per favorire un clima positivo, realizzare uno spazio ristoro, soprattutto per le sedi disagiate e iniziative volte a favorire il benessere psicofisico. Passo adesso la parola alla collega Patrizia Bonanni.